ciao bambini ben ritrovati al nostro appuntamento del venerdì culinario oggi prepareremo insieme delle buonissime cucette con le olive siete pronti? allora gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono un chilo di farina di semola 25 grammi di lievito del sale delle olive nere precedentemente tagliate e dell'acqua iniziamo col mettere la nostra farina nel contenitore successivamente prendiamo un cucchiaio e mettiamoci noi il sale la quantità giusta è un cucchiaio nel frattempo che il nostro lievito si sciolga nell'acqua tiepida versiamo le nostre olive all'interno sempre del nostro contenitore insieme alla farina e il sale una volta che il nostro lievito è sciolto dover stiamo nel nostro contenitore e adesso non ci resta di sporcarci le mani aggiungiamo all'impasto dell'altra acqua regolandoci in base alla consistenza continuando sempre ad impastare mi raccomando continuate ad impastare per circa 10 minuti una volta finito di impastare e ottenuto un composto simile a questo chiudiamo il nostro contenitore e lasciamo riposare il nostro impasto per circa due ore eccoci di nuovo insieme una volta che il nostro impasto è lievitato iniziamo a creare le nostre cucette però prima prendiamo una teglia e sfoderiamola con della carta da forno in più per aiutarci a non far appiccicare l'impasto alle nostre mani usiamo della farina in questo modo iniziamo a creare le nostre palline una volta create le nostre cucette le mettiamo in forno precedentemente prediscaldato a 200 gradi per circa un'ora e voilà le nostre cucette sono pronte anche per oggi il nostro tempo insieme è terminato vi aspetto al prossimo appuntamento ciao bambini ciao 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 ciao